Per l'anima avventurosa di un uomo non esiste nulla di più devastante di un futuro certo. Andiamo. Sai che me ne vado in Alaska? Davvero, bellissima. Oh Nicola, te lo ricordi Nicola, il mio amico? Facciamo 4.000 km in macchina. Al grande nord. Quello che sto facendo io qui è ritornare agli scrittori che mi hanno fatto desiderare di diventare come loro. Toro, London, Hemingway, Carver, Melville. Andai nei boschi perché volevo vivere con saggezza, succhiare tutto il midollo della vita e non scoprire un punto di morte di non aver vissuto. Nella sua ultima cartolina Chris McCandles scrisse Vi saluto. Adesso me ne vado into the wild. La notte fa più paura da dentro casa che da fuori nel bosco. Grazie a tutti. Grazie a tutti